Il presidente del Consiglio Nazionale dei Media della Lettonia, Ivars Abolins, ha annunciato la revoca della licenza al canale russo indipendente Doz, chiamato anche Reign TV. Il canale era in esilio in Lettonia da giugno. La Russia ne aveva sospeso la diffusione per una copertura della guerra in Ucraina, considerata critica nei confronti del Cremlino. Secondo Abolins, il canale rappresenterebbe una minaccia alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico. Reign non andrà più in onda dall'8 dicembre. Nel mese di dicembre le autorità hanno presentato diversi ricorsi contro il canale, come una multa di 10.000 euro per aver mostrato una mappa della Crimea come parte della Russia.